Inizia stasera il viaggio del Tg1 nei luoghi della bellezza che cambieranno volto grazie al piano Grandi Progetti del Ministero della Cultura. Un viaggio in sette puntate che comincia da Napoli, da Palazzo Reale. Inviate Alessandra Barone. Questi binari arrivano qui dal 1839, pochi minuti di metropolitana e dalla stazione centrale si raggiunge il cuore di Napoli, la vivacità dei quartieri spagnoli, la magnificenza di Piazza del Plebiscito con Palazzo Reale. La maestosa facciata svela uno scrigno di 40.000 metri quadrati. Luogo simbolo per eccellenza, il palazzo si proietterà verso il futuro attraverso un intervento complessivo di 23 milioni finanziato dal piano Grandi Progetti Culturali che permetterà di riscoprire bellezze nascoste di un gioiello italiano. Queste sono le cucine storiche del Palazzo Reale di Napoli, nelle quali andremo a riallestire le suppellettili che abbiamo ritrovato, recuperando gli spazi della vita privata del passato. Verranno rimodellati gli spazi per i visitatori, allestite nuove mostre. Qui troveranno casa modellini d'epoca unici e queste sale saranno inondate dalle arie del tenore Enrico Caruso, nel museo multimediale che sarà a lui dedicato. Questo è il Salone d'Ercole, una delle sale più preziose del palazzo, ma anche una delle più buie. Per questo prevediamo un intervento di rifacimento dell'illuminazione, di efficientamento energetico. Dipinti, marmi, arazzi e arredi preziosi raccontano tre secoli di storia. Questo grande progetto ci dà l'opportunità di veramente rilanciare il palazzo e di farlo tornare a essere quello che era, una residenza reale, di farla capire, raccontarla attraverso anche queste trasformazioni. Cambieranno volto anche i giardini e la facciata che dà sul porto di Napoli, tre anni di lavori per la rinascita di un luogo intriso di storia, da dove napoletani e turisti potranno immergersi nella riscoperta della città. Alle Olimpiadi invernali di Pechino torna la pattinetrice russa Camilla Balieva, risultata positiva al doping e alla vigilia dei giochi. Grazie per la visione! Grazie a tutti!